6 settembre 2023 sono stati sono state pulite le fogne ripulite per modo di dire e a quanto pare è accaduto abbiamo saputo successivamente che l'idrante è schizzato via dalla presa dei lavoratori arrivando fino a cui su primo e secondo piano questi questa è la condizione del vetro che è visibile quindi per dare l'idea fino a dove è arrivato l'idrante apro ed è visibile anche da qua tutto quanto il nero della scorcizia che viene dalle fogne specifico che la facciata è stata ristrutturata tinteggiata e ora è in condizioni pazzesche in condizioni avviattori non hanno nemmeno una settimana di vita e questa è la loro condizione attuale sono arrivati fino a lì quindi altro condizionatore qui ancora tutta la vetrata ma soprattutto l'idrante ha danneggiato la facciata del balcone qua non so se sono visibili gli schizzi tutte le porcherie finite qua nelle pianelle e chiaramente tutta la ringhiera perché da qua si possono vedere sempre gli schizzi ripeto la facciata è stata ristrutturata di recente era in perfette e ultime condizioni cambiate le pianelle ora le pianelle sono tutte amacchiate guardate come è stata ridotta questa vettura che era parcheggiata qui sotto in condizioni pazzesche ok